Una delle cose che ti è assolutamente utile per uscire dal periodo del silenzio e iniziare a lavorare sul tuo output anche con un atteggiamento, con una leggerezza di spirito differente, è quello di imparare a sentirsi a proprio agio nel sentire la nostra voce in inglese, quindi sentire noi stessi che parliamo inglese. Questo è un punto fondamentale perché va a risolvere una serie di questioni come per esempio la vergogna, l'imbarazzo, il senso di inadeguatezza che sono tutte delle sensazioni ovviamente abbastanza scontate o comunque comuni che possiamo percepire nel momento in cui iniziamo a parlare una lingua che non è la nostra. Quindi questo è un ottimo spunto per iniziare a sentirci, a estendere la nostra zona di comfort. Al momento quando parlo in inglese a voce alta mi sento fuori dalla mia zona di comfort, benissimo, estendiamola. La prima cosa che tu puoi fare è iniziare a parlare da solo a voce alta.